salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi vi voglio portare sul canale un test di questo piccolo drone che ho già recensito poi vi lascio qua sopra nelle schede il video che avevo fatto dove l'avevo fatto un piccolo unboxing avevo fatto un piccolo volo test di prova oggi invece volevo farvi vedere sotto un'altra prospettiva cioè la durata delle batterie perché questo mini drone che della beta fpv hx 115 hd è un drone secondo me fantastico disponibile su amazon mi lascio il link in descrizione che registra direttamente sulla micro sd in full hd quindi tanta tanta roba dal punto di vista dimensioni e realizzazione del video con una batteria beta fpv da 450 mini ampere 4s ragazzi questo piccolo drone arriva a sette minuti e mezzo di volo quindi secondo me è fantastico perché è un dronino piccolo leggero anche le batterie molto piccole compatte ma sette minuti e mezzo in una location come quella che andremo a vedere che non è niente di spettacolare però è ampia perché comunque è un campo campo agricolo quindi tanto spazio e di gas se ne dà davvero tanto quindi dare tanto gas è la cosa diciamo che più fa ciucciare batterie a questi piccoli droni e qua di spazio ce n'è tanto e di gas se ne dà tanto quindi arrivare a sette minuti e mezzo tanto tanta roba si può arrivare anche ad otto minuti se non si registra con la micro sd però non registrare sulla micro sd secondo me è veramente uno spreco perché la cosa bella di questo mini drone che ha questa camera in full hd quindi ragazzi adesso non prendiamo tempo facciamo questo piccolo volo per vedere se riusciamo ad arrivare i sette minuti e mezzo di volo che vi ho appena detto quindi ragazzi decolliamo ciao 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 ok ragazzi ce l'abbiamo fatta siamo arrivati a circa sette minuti e mezzo e avete visto che di gas ne ho dato quindi nel senso che di gas ne ho dato parecchio eppure lui a sette minuti e mezzo ci arriva è fantastico davvero con queste batterie da 450mAh 4S, tanta tanta roba devo dire, il drone è fantastico come vi avevo detto anche nell'altro video perché è bellissimo da pilotare, leggero, veloce, piccolo, cioè super silenzioso è veramente fantastico, quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato questo piccolo test di questo BetaFPV HX115 HD in grado di volare per 7 minuti e mezzo con le sue batterie da 450mAh 4S se vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non lo avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube e non perdevi neanche un video, un volo, un testo, una recensione, un tutorial, una novità, ciao!